buongiorno dal lago di Como perché questo weekend è il ponte dei morti e quindi ne abbiamo approfittato perché i nostri amici hanno una cassetta qui sul lago e quindi siamo saliti a Milano poi siamo saliti ieri sera in macchina qua però era tutto buio ieri sera quindi io non sono riuscita a vedere niente nulla ci siamo svegliati con questa pace la natura oggi facciamo dei giri pranziamo qui e poi saliamo di nuovo ancora andiamo a Livigno a fare un po' di montagna che io non sono mai stata neanche e facciamo questo weekend lungo con calma come ci pare guarda io sono contentissima perché questa è la mia prima volta sul lago di Como mai stata era ora era ora infatti adesso sto aspettando George mio amico George Cluny non so se lo conoscete ma lui è di là e viene a prenderci con la barca perché perché oggi fa ragazzi tipo 30 gradi 30 gradi quasi a novembre quasi aahhh aahhh Ecco la mia amica tazza. Ciao Lu. Ciao amore. Introduce me so. I'm Lucia, I'm an influencer, I'm a lawyer, and this is a VIP, this is a VIP. I'm here with Sophie Swald, I'm happy for these days together. And... Dove siamo? No, ma questo è un vlog in italiano. Ah, in italiano? Ok. Allora, siamo al lago di Como. La mia prima volta. La sua prima volta. Siamo qui all'avventura. È anche una bellissima giornata. Questa 26 gradi ad ottobre. Il papà e il figlio. Questa Logan è! Oh! Oh! Tocca... Cacao, cannella, 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 cannella. Cannella, cannella, cannella. Cannella, 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 cannella. Cannella, 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 cannella. Cannella, 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 cannella. E' un po' più bella, non è un po' più bella. Ma è bellissimo. Andiamo su all'altro. Ma questo è quello di Maschio. Non lo posso scrivere. Ma ci sono le tifo sotto la ascella. Oh, le piante. Bellissime. Bello. Noi abbiamo bisogno delle piante. No, ancora non abbiamo delle piante in casa. Ci manca questo tocco verde. No, guarda. L'olio che ci piace. Si, ci piace questa olio. Bella. Grazie a tutti. 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 Questa è fatta. Se fossi andata io a una scuola così... Wow. ... Ciao. Con questo... Ma è quest'anno che siete qua. Questo secondo anno? S understalissimo. e che faccio e che faccio buono buono siamo già in Svizzera Svizzera, ragazzi date le polpettine vegetariane le polpette Svizzera allora siamo appena entrati nella nostra camera ecco il bagno ciao e poi la cosa più bella è che c'è la sauna dentro la camera ma che figo proprio a montagna adesso proviamo questa sauna prima che ci prepariamo per uscire per andare a cena allora siamo pronti stiamo andando a cena e cosa devo prendere pizzoccheri pizzoccheri tutti mi dicono che devo prendere i pizzoccheri che cos'è sono delle panzerottini di grano serraceno ripieni di formaggio vabbè quello che ha detto lei però se lo fai adesso il video so mi sembra che sta venendo ad Halloween ma è Halloween weekend è il weekend di Halloween bello connecticut connecticut brava Lu già sai cosa rendi ci sono tutti ingredienti che posso mangiare sì perché fa proteina carboidrato la polenta e funghi verdura ma funghi non è tanto verdura allora mi chiedo spinaci ho l'impressione che l'ho visto io questo posto ma che caso è andato a quattro hotel bello a quattro ristoranti quindi questo è bel italiano prova a vedere bene tagliate dai fondi pure però la sexy caprese carino ricotta no un po' lenta allora ecco questo è un po' il grano saraceno con dentro il formaggio quindi così me la parata questo è un po' lenta perché ora quindi tipo una un po' di colaggio sì io decisamente di bene no no tipo sarà buono però non ho mai mangiato una cosa del genere questo li potevamo prendere due ma non fai io faccio questo pezzo qua c'è buonenta qua c'è buonenta occhio che su me è sicuro sì grazie ma questo è un po' di pane 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 ma quel polomaggio ce l'ha già messo a te ciao sì 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 ma questo è un po' di pane esatto allora per me sono un po' di ruolo io andiamo a morire sono tagliati di feriato oh è vero sì cinque due primi pizzoccheri buonissimi prego avete più esperienza no state pace prese il mio nuovo così sbagliato poi se tu guardi il disegno abbiamo una sua vita la foto si ferma mangia vede c'è di la parmiarena io dico non è non so ma questo è più dolce cosa hai preso? ma io penso a chef chef no ma le devi provarne secondo me perché saranno tipo saranno tipo dolce piccate ma sto schiettando ma pure da carota ma sono bellone ma è carota non è perfetto non è perfetto perfetto cazzo proviamo il tiribosco con questo cazzo sembra l'anguria giuro su dio provo questo con il cetriolo e una palla di cioccolato buongiorno dal bivigno eccoci col sole un intruder vabbè chi c'è la nostra sveglia buongiorno ragazzi belli stiamo facendo la passeggiata ciao buon dio ragazzi buon dio adesso mi devo devo idratare un po' la pelle perché qua la mia pelle è secchissima noi ci stiamo preparando perché adesso facciamo il check out andiamo a fare due pasti a fare colazione che io non so come è possibile che abbiamo fame perché ieri sera ragazzi ho mangiato fino a qua mi sentivo proprio che non so di rotolare fuori dal ristorante ieri sera e poi facciamo una passeggiata fuori in natura secondo me più mangi più che hai fame perché stamattina ci siamo svegliati affamati davvero non so come è possibile è un'altra splendida giornata abbiamo fatto l'ora legale stanotte quindi infatti mi sono svegliata alle sei e mezza per andare in bagno ma ho detto sei e mezza domenica troppo presto invece non mi sono resa conto che abbiamo fatto questo cambio orario l'ora legale e infatti mi sono riattormentata e sono svegliata risvegliata tipo alle alle otto che in realtà era erano alle nove e non mi dispiace allora finisco a prepararmi e ci vediamo dopo allora adesso vi faccio vedere l'albergo durante la giornata perché ieri sei non siamo riusciti a vedere non si vedeva niente e qua poi ci sono le montagne dietro questa passeggiata proprio trekking ho portato le le scarpe giuste che bello però io vorrei tornare con la neve con la neve e andare a sciare eh ci torniamo ciao ciao che vita che avete comunque che bello non lo vedo tanto pieno ma puoi non lo vedo tanto pieno non lo vedo tanto pieno non lo vedo tanto pieno ci sono la tuta io che vi guarda che è chiamato non lo so non lo so non lo so guarda che è tornato quasi guarda che vuole ancora le sere avvicina non lo niente mi dispiace ciao ciao e amore grazie prego ciao ciao ma dovrei tornare no qui alla finestra, guarda come rite che ripresa alla crue anche se dice cazzo di per me ma certo devi far così certo giuro che l'ho fatto come il giorno ora che la Ferragno sarà il primo non sarà fatto incazzare allora abbiamo già pranzato abbiamo pranzato e adesso abbiamo quante dieci chilometri ciao poi torniamo torniamo al centro abbiamo deciso di fare una passeggiata stamattina abbiamo lasciato i mariti a casa comunque una bellissima giornata l'ultimo giorno del ponte allora non vi ho aggiornato ieri sera siamo tornati al lago di Como dopo Livigno e oggi facciamo l'ultima giornata sul lago poi torniamo a Milano Emilio e io e noi torniamo in treno a Firenze stasera comunque abbiamo beccato davvero bellissimo tempo immagini sotto la pioggia Lu wow impossibile fare quello che abbiamo fatto quando vi faccio quando vi faccio è aperto no? chi sono? Grazie. 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 Grazie.